Siamo qui con il sindaco di Ventimiglia e la situazione naturalmente più consistente e preoccupante potrebbe essere quella legata ai migranti, l'arrivo del bel tempo e la possibilità che questo porti anche nuovi arrivi. La città di Ventimiglia come sta pensando di affrontare l'eventuale emergenza, se c'è e cosa si pensa? Senz'altro ci sarà un aumento del flusso nei prossimi mesi, adesso poi in 7 c'è un incontro a Genova in cui si parlerà della questione. In questo momento il Camporoia vede ancora una disponibilità di oltre 50 posti, quindi ci sono dei numeri abbastanza stabili a ribasso. La preoccupazione più avanti è capire come saranno le modalità di funzionamento, se ci sarà capienza per tutti e soprattutto sui minori stranieri non accompagnati perché gli arrivi si presumono siano più importanti di quelli dell'anno scorso per quanto riguarda i minori. Per quanto riguarda i minori potrebbe comportare un problema anche per la loro presa in carico? Esattamente, perché c'è tutto un procedimento diverso, evidentemente il Comune da solo non può farcela, quindi dovremmo capire quali saranno le strategie e gli aiuti che chiediamo per questo tipo di fenomeno qua. Mi accennavi a una riunione del 7, cosa ci si pensa di ottenere? Ma intanto più che altro si vuole capire quali sono gli input che arrivano da Roma, quindi questo è necessario, poi l'ottenere si vedrà quali sono le capacità, le disponibilità, insomma vediamo, tutto in itinere. C'è un po' il timore che si possa non ripresentare la situazione di emergenza vissuta in passato? No, questo no perché comunque vada, si esce da un'esperienza in cui si è andato a creare, si è creato un campo apposta per non rivivere le stesse situazioni di prima, quindi questo no. Per quanto riguarda un'eventuale emergenza anche dal punto di vista sanitario c'è questo timore, ci sono i controlli? No, dal punto di vista sanitario no perché la stragrande maggioranza di coloro che arrivano non ne fanno già i controlli subito quando mettono piede a terra, quindi no. E tanti di quelli che passano da Ventimiglia sono già persone che comunque sono collocate in altri centri, spesso in tante città d'Italia, quindi hanno già avuto controlli, assolutamente no. Il porto di Ventimiglia, sono ripartiti i lavori, quali le prospettive, l'iter e le possibilità magari che questo possa avere un risvolto positivo anche per la città? Ma i lavori sono ricominciati, la lita ha ripreso con insomma felicità da parte di tutti quanti noi a seguito di un iter burocratico che ha visto in volta una variante, quindi mi ha dovuto provare una variante e ci mi ha messo quasi un anno per fare tutto questo lavoro qua. Quindi siamo molto soddisfatti al momento. È evidente che i risvolti possono essere positivi per tutti, per l'economia, per il lavoro che darà, per l'interazione con il turismo e soprattutto perché portiamo il Principato di Monaco, a Ventimiglia, quindi è una delle più importanti azioni di marketing che si potessero immaginare. Quindi estrema soddisfazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.